Nel 2016 è cresciuto notevolmente l'utilizzo dell'auto in Abruzzo. Gli abruzzesi l'hanno stato una settimana in più rispetto al 2015, percorrendo circa 300 km in più. L'incremento in controtendenza rispetto al trend degli ultimi tre anni rappresenta un ulteriore indizio della ripresa economica del paese. Gli abruzzesi trascorrono un'ora e mezza al giorno in automobile, guidando una velocità media di 29,9 km orari, 30,2 km orari nel 2015, in linea con la media italiana. Il venerdì è la giornata in cui si utilizza maggiormente l'auto. Teramo è la provincia in cui si percorrono più chilometri l'anno, 13.537, Chieti, la provincia in cui si guida di più durante la notte. Vediamo invece come si comportano i sulmonesi al volante. Pochino diciamo, far 40 km al giorno neanche, 30 km. Seguro per spostarmi, spese e robe varie, in me ne sono esame. In montagna quello qualche volta. Almeno tre, tre ore. Che cosa la usa? Soprattutto per lavoro e per attività sportive. Ma io veramente cerco di camminare a piedi, per essere sempre in allenamento. La macchina la prendo il meno possibile. Io ho una vita che ho fatto tanti chilometri e ho fatto le giornate intere. Anche dopo che sono andato in pensione, accompagnavo mio figlio che distribuiva le medicine. Facevamo 500 km al giorno.